Italiani, giavenesi, che vanno a Tenerife per evadere le tasse e gli crolla il palazzo. E la parte più bella è che era un anonimo, ignoto, fino a quando ho scritto al figlio di puttana sardo che mi ha inculato insieme al calabrese del porco dio, e mi risponde sei un mastardo, era il padre di una mia amica, sì, sì, non avete idea di che cosa avete messo in moto il 21 maggio, non avete idea di cosa vi succederà. Peraltro oggi c'è il referendum, dove italiani di merda sparano a cazzate, italianeggiando a cazzo come al solito. Il quorum l'avete preso in culo, Renzi vincerà e porterà l'Italia alla svenniva, che è quello che io spero, infatti in cambio di quello che mi hanno inculato i valsangonesi, mi merito almeno la provincia di Asti, forse anche unita a quella di Cuneo, sì, più o meno, oppure in cambio, mi date la Val di Susa, è un fucile col mirino per i calabresi, perché pam, 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 tu spari anche in area, e pum, sì, è un bel giorno, pagherete caro, pagherete tutto!